Si è svolta questa mattina la conferenza stampa presso la sede della CIA di Teramo indetta dalla Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo per interpellanze dopo la chiusura del Consorzio Agrario. Noi riteniamo che era assolutamente importante in quella fase verificare innanzitutto se quelle persone avevano ancora i requisiti per poter insediarsi nuovamente. Noi siccome riteniamo che non avevano quei requisiti perché ormai quasi nessuno di loro era più agricoltore quindi la ricostituzione degli organi dovevano necessariamente passare per questa verifica che invece Manolo Di Pasquale assolutamente non fece. Dopo di quello cosa è successo? Noi abbiamo informato, quindi la stampa che il giorno non ha parlato di altro, televisione e il resto dopodiché noi veniamo e il documento è nella vostra cartella noi andiamo a leggere dopo un mese, ci prendiamo finalmente il verbale dell'Assemblea e li vediamo che Pasetti Domenico di Francavilla allega una sua dichiarazione al momento di accettare la carica in cui chiaramente nella parte, nell'ultimo capoverso che vorrei proprio dire leggervi Pasetti dice proprio per tutto quanto sopra, per tutto quanto sopra specificato, sarò lieto di assumere la carica di amministratore del vostro consorzio, vostro consorzio, laddove condividiate il gruppo di integrazione, il progetto scusate, integrazione del consorzio agrario di Chieti e Pescara e quello di Termo che mi appresterò a proporre appena eletto. quindi era chiaro il motivo per cui si andava ad eleggere Pasetti presidente del consorzio di Termo che lui dichiara che lui accetta quell'incarico perché ha un obiettivo quello di portare Termo a diffonderlo con Pescara e Chieti dove lui era già presidente quindi già con un enorme conflitto di interessi voi capite che i consorzi nel loro statuto dicono che non è possibile esercitare una funzione di interesse contrapposta perché Pescara svolge la stessa attività di Termo lui diventa contemporaneamente presidente dei due consorzi che svolgono attività anche in ambito territoriale contrastanti perché Pescara arriva nel Terramano e anche Terramo come dire arriva su Pescara in provincia a Penne eccetera si svolgono le elezioni come a Lara torniamo a chiedere a Colliretti allora quando ci sediamo dicono siccome nel frattempo il direttore regionale era stato spedito in Sardegna per dei suoi comportamenti poco lineari come dire in Abruzzo i due nuovi arrivati dicono dateci il tempo di capire bene la situazione ci chiedono tempo noi veniamo a scoprire a settembre casualmente io vengo a scoprire che il 31 di luglio c'è stata un'assemblea che ha fuso in pratica i due consorzi però con il consorzio agrario di Pescara che si chiama poi CADA consorzio agrario regionale era già costituito il 20 di giugno avete i documenti in cartella Manola Di Pasquale e Pasetti erano diventati presidenti e amministratori del CADA di questo consorzio agrario regionale quindi il 20 di giugno il 31 di luglio c'è l'assemblea Teramo all'insaputa di tutti in cui avviene la fusione per incorporazione di Teramo con Pescara capite che c'è almeno un problema come dire di opportunità e di trasparenza